Invece mi sembra che queste diete estreme siano l'opposto, magari ti fanno star bene in costume, però ti creano. Sì, poi magari non hai più vitamine, le proteine non le hai più, perché poi è vero che riduci il volume del tuo corpo, ma la massa muscolare è da discutere quanto ne hai ancora, perché quando dimagrisci in maniera così veloce, tu non perdi massa grassa, tu persi massa magra, quindi perdi il tuo muscolo. Quindi effettivamente ti vedi visivamente così, ma se poi fai un'impedenzometria vedi che è un esame in cui si valuta la massa, vedi che perdi massa muscolare, quindi massa magra effettivamente. E poi ti svuoti tanto di liquidi anche, quindi ti svuoti di liquidi. C'è gente?